Stiamo andando a Piazza Venezia Che cosa fai sull'arco? Ciccene è... Non spagare... Non è quella cosa che fai? Fai fermo qui Come ti vede? Quanti minuti vale? Comunque penso che... C'è un'altra cosa che fa Oh no C'è un'altra cosa che fa C'è un'altra cosa che vuole Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti.